Domani, 4 maggio di un minuto, si prevede la riapertura dalle restrizioni che ci sono state per il virus. Temo questa riapertura, per me è stata una pace infinita, per altri forse un incubo, per qualcuno rischio di miseria probabilmente, però per la natura è stata una fortuna. E temo che in brevissimo tempo tutto il vantaggio che ne ha avuto possa andare perduto. Il rumore del fiume si sente benissimo, cosa che non succederebbe nel momento in cui cominciassero a passare moto e auto. Ed è quello che probabilmente succederà da domani.